ieri martedì 21 dicembre 2021 si è tenuto il consiglio comunale di castellabate all'ordine del giorno 10 punti primo punto all'ordine del giorno l'approvazione dei verbali della seduta precedente il secondo riguardava l'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2020 che è stato appunto approvato riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio sentenza numero 148 2021 del 2 febbraio 2021 della corte di appello di salerno per quanto riguarda le spese legali al quarto punto la presa d'atto del pef piano economico finanziario per la gestione del servizio integrato dei rifiuti anno 2021 così come validato dall'eda salerno al quinto punto è stato approvato l'atto di transazione tra il comune di castellabate e petrol srl al sesto punto è stata ratificata la deliberazione di giunta comunale del 26 novembre 2021 ad oggetto prima variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2021-2023 al settimo punto è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 per quanto riguarda il contributo al piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico all'ottavo punto è stato approvato l'atto di transazione tra il comune di castellabate e la società servizi ecologici ambientali srl al nono punto è stato approvato l'atto di transazione tra il comune di castellabate e corisa 4 e infine l'ultimo punto all'ordine del giorno è stata approvata la mozione a firma dei consiglieri comunali domenico di luccia e catina tortora avente ad oggetto l'istituzione centro vaccinale presso il south di santa maria di castellabate grazie a tutti